Bonny e Clyde in Sassa riccionese. I carabinieri hanno arrestato giovedì mattina una coppia di conviventi di origini pugliesi residenti nel quartiere Alba della Perla Verde. A loro sarebbero riconducibili una ventina di furti in abitazione avvenuti nell'estate del 2018, a cui se ne aggiungerebbe un altro in Svizzera. Un anno di indagini partite per caso nel giugno dell'anno scorso dopo lo scoppio di un incendio nella discoteca Bobo. Da lì, grazie alle intercettazioni telefoniche, si è risaliti alla coppia, 36 anni lei, 38 lui, e a definire il loro modo di agire nei residence, in particolare nel quartiere Abissinia. Qual era la peculiarità del modo in cui operavano all'interno dei residence? Per quello che abbiamo potuto ricostruire, entravano in possesso delle chiavi dei vari appartamenti, distraendo e raggirando il personale addetto alle pulizie e dopo aver tranquillamente fatto la copia delle chiavi degli appartamenti, entravano poi nottetempo per le attività predatorie del caso. 50.000 euro il bottino. La coppia avrebbe anche svaliggiato l'abitazione di una turista svizzera mentre questa era in vacanza a Riccione e di cui erano diventati amici. Ma il vizio del furto non si ferma qua. Secondo le indagini i due arrestati, con l'aiuto del fratello di lui, avevano inscenato un furto notturno nel bar di proprietà della 36enne. La mattina dopo, la colpa era stata scaricata sulla dipendente, alla quale sarebbe stato estorto lo stipendio come risarcimento. Il mese dopo, quando avevano ripreso a pagarla, sarebbero entrati a casa della vittima per portare via i soldi appena consegnati. Ad oggi, l'80% del bottino dei furti è stato recuperato, indagato anche un comproro con la cui complicità i due avrebbero provato a piazzare dei Rolex rubati.